Il giorno che mi hanno detto che la Juventus mi voleva e io ho fatto la mia decisione e l'ho detto subito che voleva venire qua per tanti motivi e uno dicono che mi piace sempre vincere tutte le cose che faccio e penso che questa sia la squadra perfetta per cominciare a vincere la mia carriera. Veramente è una sensazione bellissima avere questa maglia con questi colori che tanto ho sognato di avere, penso che è un'emozione molto forte, un numero della mia età, un numero che ne hanno vissuti dei grandi giocatori come Citane, l'ultimo giocatore che l'ho avuto è stato Andrea Pirlo, penso che questi giocatori a livello storico sono molto importanti e mi piacere di diventare come uno di loro. Sarà un cambio molto grande per me e per la mia carriera arrivare a una squadra come la Juventus, spero di poter crescere come giocatore, come persona e diventare un grande calcatore anche qua. La Juve l'anno scorso ha fatto un anno incredibile, peccato che non ha potuto vincere la Champions, giocando contro una grande squadra, però penso che la cosa positiva è che la Juventus possa fare ancora meglio questo anno vincendo la Champions, penso che il campionato sarà difficile perché tutti vogliono vincere contro la Juventus e sarà facile giocare in qualsiasi stadio, però penso che c'è una rossa molto forte che possiamo vincere e possa vincere e arrivare dove è arrivato l'anno scorso. Quando ho giocato la prima volta qua sono rimasto un po' sorpreso, ovvero che quando ho giocato il giorno che la Juventus ha vinto lo Scudetto, quindi è stato un po' particolare, però adesso posso avere tutta la gente che magari si faccia un gol e dice il mio nome sarà veramente molto forte, molto bello per me. Un messaggio allora per concludere per i tuoi nuovi tifosi? Sono molto contento di essere parte di questa famiglia, di essere uno di loro e spero di poter segnare tanto per loro. Grazie.